Un doppio appuntamento per fare memoria e non dimenticare. In occasione del 102esimo anniversario del genocidio armeno, iniziato il 25 aprile 1915, il Comitato Regionale per i Diritti Umani, presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale Mauro Laus, in collaborazione con l'Associazione Solidale ASSO, ha proposto un convegno e uno spettacolo teatrale dal titolo La Voce delle Pietre Urlanti. Celebriamo la ricorrenza del genocidio armeno. Perché crediamo che sia importantissimo? Per almeno due ragioni. La prima è stato il primo genocidio di epoca moderna. E Hitler si è ispirato al genocidio armeno per organizzare la Shoah. La seconda ragione è che oggi siamo preoccupati della situazione politica in Turchia e allora lanciare un allarme sulle tragedie del passato è importantissimo anche per prevenirne oggi. Dal 2012, quando siamo riusciti a ottenere il riconoscimento del genocidio armeno da parte del Comune di Torino, annualmente facciamo delle manifestazioni proprio per i diritti degli armeni. Noi riusciamo sempre, infatti anche in questo caso, a coinvolgere molto i ragazzi delle scuole che finalmente riescono a essere a contatto con questa problematica, chiamiamola così. Grazie. Grazie.